Ciao, vogliamo ringraziare perché siete venuti sul nostro website, vogliamo ringraziare alla chiesa, ai fratelli e sorelle per il loro supporto e l'amore, e anche vogliamo ringraziare i nostri familiari e i nostri amici per il loro supporto e l'amore, e a tutti quelli che vengono al nostro maritrimone vi ringraziamo per i vostri regali, e anche noi preghiamo per il nostro viaggio di nozze, se avvieno, e ringraziamo per i vostri regali e per la vostra donazione, e finalmente e non ultimo ringraziamo a Dio per il suo aiuto e supporto e amore che è infinitamente grande, See you at the wedding, ciao! Ci vediamo al matrimonio, ciao!